Ilenia Carrisi, Romina Power perde la pazienza, la dura reazione Nuova bufala su Ilenia Carrisi, Romina Power perde la pazienza, la dura reazione della cantante dopo le falsità diffuse La bomba lanciata dal sito da Gospia in pillole di gossip, riguardante un presunto incontro tra Iari Carrisi e la sorella Ilenia Santo Domingo, sta facendo molto discutere Il primo a smentire, a pochi minuti dalla pubblicazione della notizia, rilanciata anche da altri siti internet, è stato proprio il figlio di Albano e Romina Questa notizia speculativa è falsa, ha affermato l'uomo Ma la sua non è stata l'unica reazione stizzita a quanto emerso nel pomeriggio, notizia che peraltro rimbalza da diverso tempo in rete Ci ha pensato sua madre, Romina Power, a gridare la sua indignazione per quanto accaduto Come noto, peraltro, in più occasioni la cantante non ha smesso di manifestare speranza nel poter riabbracciare la figlia un giorno in concomitanza con compleanni, anniversari della scomparsa o altri anniversari importanti Non perde occasione di ripostare foto di lei e con lei Il duro affondo di Romina Power contro le fake news sulla figlia Ilenia Carrisi Stavolta però Romina Power è davvero furibonda per quanto sta accadendo alla sua famiglia con l'ennesima speculazione su una tragica vicenda che li ha riguardati il cui dolore non si è mai sopito Ma quando è che la smetterete di speculare sulla mia famiglia? Si domanda stizzita la cantante Poi ancora, quando è che la smetterete di riempire la testa delle persone con becere balle? Vi dovete solo vergognare È la sua conclusione Conclusione che trova d'accordo i tanti follower che seguono Romina Power sul suo profilo Instagram Pagine di fan del duo Albano e Romina che oggi attaccano, ma dove arriva la cattiveria della gente? Vergognatevi Ci sono anche tante persone comuni che sostengono come tutto questo sia davvero eccessivo e chiedono come mai non vengano presi provvedimenti contro chi diffonde e alimenta queste notizie Per speculare sul dolore delle famiglie ci vuole tanto coraggio e cattiveria, sottolinea ancora qualcuno Intanto però a quasi 28 anni della scomparsa della figlia di Albano Carrisi e Romina Power la verità sull'accaduto resta un miraggio